Ciao a tutti stelle web, qui ExynCostare che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di League of Rage Ho visto che lo scorso episodio è piaciuto a un paio di persone quindi ho deciso di continuare e oggi andiamo con la B E il primo sulla lista è Bard, il custode errante Portale stunnato Ulti stunnato Portale stunnato Ulti Un'altra ulti E ora passiamo a Blitzcrank Il golem a vapore A vapore Bene Voi non importa cosa siete Se siete challenger, bronzi Non importa perché In un modo o in un altro Quando giocate Blitzcrank Arriverà sempre E dico sempre Quel grab che non ti aspetti Quel grab che Ti stuprerà altamente Osservate qui questo bellus Tutto cauto Brum Grabbato No vision Eeeh Sei altamente morto Come se non bastasse Se andiamo a vedere in questo filmato Blitzcrank è quasi sul punto di morire Peccato che si attivi la sua passiva Non so se vedete Quel grande scudo che ha Non a caso Vieni chiamato Blitzcrank Sai Brand La vendetta ardente Bene Che cosa posso dire su questo champion Mmm Non ho Non so Non ho paura Brucia 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 Bruciate tutti Brucia 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 Brum Il cuore del Freljord E no Non ho detto questo soltanto Perché voglio cercare di evitare La voce di Brum No no Per niente Comunque Brum 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 Caro mio amico Come può una cosa del genere Essere legale Osservate E non solo Non solo Non solo Perché Come al solito C'è sempre qualcos'altro Non importa dove sei Brum Sarà sempre lì A salvare il culo Al suo add carry E non solo Non solo il suo add carry Sarà sempre lì A salvare il culo Di tutti i suoi compagni Con il suo scudo Con il suo dash Con la sua passiva Non importa come Lui Sarà sempre lì Pronto A salvare la vita Dei suoi compagni E ovviamente Quando Voi Abbasserete la guardia E siete pronti A vivere Eccolo FlashQ E buonanotte E anche oggi Per questo video È tutto Giuro che mi sono Discutto la voce A fare la voce di Brand Però Ne è valsa la pena Spero che sia la parte Che apprezzerete di più Del video Perché Ci ho rimesso la mia gola Sapete Io ci tengo la mia gola Perché No aspetta Se lo dico così Può creste pensare Che utilizzi la gola Per ringuagliare Dei certi Liqui Liquidi Bianchi Che Fuoriescono Dall'organo Riproduttivo Maschile E non ho idea Del perché Sono andato a parlare Del pene Durante un video Del genere Forse dovrei Smetterla Di fare Tisagiotto Who cares Iscrivetevi Lasciate un mi piace Lasciate un commento E noi ci vediamo In un prossimo video Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501